buonasera benvenuti sono felicissimo non so se si vede che sto sorridendo la grande perché qui al convento questa sera ci si diverte vero chissà perché io tutte le volte che vado a confessarmi o comunque vado in posto c'è le suore vedo tutte brutte poi mi accorgo che a convento sono belle bene sono contenta ti chiami suor suor caterina caterina e lei suor claretta claretta senti stasera vi divertite o vi annoiate o volete squartare qualche uomo più tardi magari a che ora pensate di squartare qualche uomo me lo fate un saluto pregando alla vostra maniera sui bicchieri sui bicchieri dj carlone per il momento è tutto halloween sta per partire